Eccoci tornati insieme in diretta. Allora, lo abbiamo detto nel nostro sommario, nella nostra anteprima. Oggi ricordiamo l'anniversario della nascita, potremmo dire ecco, del capostipite di una nuova generazione di registi attori. Stiamo parlando di Massimo Troisi, nato il 19 febbraio del 1953. L'anno scorso abbiamo ricordato il settantesimo anniversario della sua nascita. Oggi e quest'anno ricorderemo i 30 anni della sua morte e questa mattina lo vogliamo omaggiare e ricordare attraverso la testimonianza e le parole, le immagini di un libro scritto da un regista, produttore, sceneggiatore, nonché nipote di Massimo Troisi, Stefano Veneruso. Buongiorno Stefano, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Il mio verbo preferito è evitare, un libro edito dalla Rizzoli, un percorso nella vita artistica e privata di Massimo Troisi, un libro affettuoso con immagini, parole e molti ricordi inediti e molte foto anche che arrivano appunto dall'archivio privato della famiglia Troisi. 15 anni di differenza a separarvi e un solido rapporto affettivo e professionale a legarvi. È vero che una volta ti disse, ti do del tu Stefano, tu non mi chiamazzi io, mi chiama Massimo. Sì, questo è veramente uno dei primi ricordi che ho, perché è una piccola rivoluzione nella nostra famiglia a San Giorgio a Cremano, pensando che lui dà il voi al padre, cioè a mio nonno, no? Hai utilizzato nel libro degli aggettivi, spigoloso, spiritoso, gentile, silenzioso, malinconico, dolce ma anche autoritario, appunto alcuni aggettivi che hai utilizzato per descrivere Troisi, che alla domanda come si fa a diventare Troisi lui rispondeva fortuna e talento. Sì, era, confermo tutto, insomma, era esattamente così, era silenzioso, era spiritoso, era umidissimo, ecco questa immagine per me è molto significativa. qui a casa sua, intorno ai fine anni Ottanta, io avevo credo vent'anni, diciannove anni, e quindi sì, la sua grande umiltà in quella disposta bellissima a Gigi Marzullo nel suo Mezzanotte e dintorni, dice come si fa a diventare Troisi? È fortuna e talento, prima fortuna e poi talento. Un altro aggettivo è illuminante, che è un aggettivo che potrebbe e descrive sicuramente il suo percorso artistico in una parola come lei lo ha definito, un percorso artistico che è sempre stato, come dire, costellato da tematiche forti, anche delle situazioni vissute sulla propria pelle e Massimo lo ha fatto nella sua lingua che è il napoletano. L'illuminante secondo me non basterebbe, sarebbe una cosa più forte anche l'illuminante, ma non so se c'è, perché era veramente incredibile la sua... cioè, questo l'abbiamo visto anche in generale nella sua arte, nelle sue interviste, nei suoi film, ma questo era molto molto di più, infatti io dico sempre che non so se sono riuscito a descrivere questa sua straordinarietà, lui era davvero tutto quello che abbiamo visto, ma anche molto di più nel privato, non so come dire, di umiltà, di saggezza, di talento, di genialità. Stefano, il titolo del libro è il mio verbo preferito è evitare, e poi c'è un'altra frase ricorrente che Troisi utilizzava nel parlare comune, bisognerebbe cercare di non prendersi mai troppo sul serio. Ecco, in questo libro racconti anche della vostra comune passione per il cinema e quando nacque il progetto del suo ultimo film, Il Postino, Troisi ti volle con sé come assistente alla regia. Ci racconti che esperienza è stata quella? Eh vabbè, come si può intuire, è stata un'esperienza secondo me che veramente io trovo difficoltà e non credo di esagerare perché essere intorno a lui, accanto a lui, per me poi un privilegio assoluto proprio, come dire, sono stato quasi la sua ombra sul postino perché lui in quel periodo si era anche trasferito a casa nostra, a casa con mia madre, con noi, con i miei genitori. Quindi era veramente come un fratello maggiore per me. e quindi l'ho sentito proprio dentro, mi sono sentito proprio con lui perché vivevo a casa con lui e il set con lui. Quindi infatti quando si prospettò questa possibilità, io stavo negli Stati Uniti e ci sentivamo spesso al telefono e lui mi disse che appunto aveva trovato questo romanzo Il Postino di Neruda che è arrivato a pagina 10 e aveva deciso di fare un film. E io mi ero sistemato in America nel frattempo, avevo 24 anni, avevo già lavorato con lui in produzione 3-4 anni, però non fu una cosa facile, ma anche grazie a lui riuscii a sistemarmi, lavoravo per una grossa compagnia cinematografica, studiavo cinema, però sentì talmente forte questa sua passione per questo film che meno male decisi di lasciare tutto e di tornare perché avrei rischiato di non vivere qualche cosa di ripetibile, di indescrivibile. Ecco, vediamo inquadrata dalla regia proprio una foto tratta dalle pagine del libro, la frase appunto che citavamo all'inizio, non mi devi chiamare zio, mi devi chiamare Massimo. Sono trascorsi 30 anni dalla sua morte, allora cosa continua a raccontarci Massimo Troisi con i suoi film, i suoi personaggi? Ma io credo che, guarda, l'ho riscontrato proprio non molto tempo fa in Israele, mi sono avventurato con un attore israeliano a tradurre in diretta il monologo con Dio, cioè dice ha fretta, ha fretta, questa polemica col Padre Eterno, chi dà hint a te fa tutte cose da sei ore, tutto a livello dell'eternità, io vivo con calma e faccio le cose per bene e comincia tutta questa... e ti accorgi che quando poi l'arte con la A maiuscola è così, come dire, è così intelligente, così umile, così saggia, non ha confini e non ha limiti nel tempo, no? Per cui secondo me tutto quello che è stato continua addirittura a crescere perché scopriamo, io stesso scopro cose nuove attraverso racconti di chi ha avuto la fortuna di viverlo per un periodo breve, lungo, al di là poi, diciamo, di quello che scopriamo attraverso i critici, gli studiosi, ma quello che è incredibile è che chiunque lo ha conosciuto ti racconta il proprio massimo e quindi era qualcosa di infinito, no? Una visione così originale, così intelligente, così propositiva, quindi questa struttura di individuare una cosa e di farla sua e di concluderla con qualcosa di ironico, ecco, questo era... in questo era insuperabile, io veramente non ne conosco altri, io dico che lui è il mio autore preferito, ma non perché sono il nipote, non perché ci fosse questo legame, fosse il fratello di mia madre, ma perché veramente continua a leggere, a studiare cose sue straordinarie. Stefano, la regia ci ha regalato qualche frame di immagini del film che hai diretto, tratto dall'omonimo romanzo di Anna Pavignano, Da domani mi alzo tardi, questo però non è un film biografico su Massimo Troisi, ma una storia immaginaria. Sì, guarda, le cose poi arrivano pure un po', le prendi un po' per quello che succede, nel senso che io ho letto il romanzo e sono rimasto folgorato perché ho scoperto un Massimo che non conoscevo, ovviamente era il Massimo di Anna e l'Anna di Massimo, e quindi ho pensato dopo un bel po' di tempo, con mille perplessità rispetto al discorso della somiglianza, la non somiglianza, quello che mi piaceva era proprio l'essenza di queste due anime straordinarie, cioè Massimo e Anna, Anna e Massimo, che hanno scritto, secondo me, un pezzo di storia irripetibile, da Ricomincio da Tre al Postino, e quindi per me è stato un privilegio assoluto fare un film da questo materiale bellissimo, tra l'altro anche di grande creatività, perché non è una biografia appunto, è Massimo immaginato da Anna, e anche un po' da me, che comunque Anna ha vissuto una storia bellissima, anche sentimentale, con Massimo, oltre che lavorativa, e quindi io sono proprio contento di questo film, tra l'altro c'è una perla dentro, che è un brano inedito, cantato da Pino Daniele. Eh sì, è proprio così. Allora Stefano, noi ti ringraziamo di cuore per la disponibilità, sappiamo che sei impegnato a girare un film, quindi davvero grazie per esserti ritagliato questo spazio da dedicare a noi, ai nostri amici telespettatori. Vorrei ricordare nuovamente il titolo del tuo libro, edito dalla Rizzoli, il mio verbo preferito è evitare, appunto, libro dedicato a tuo zio Massimo Troisi, grazie a Stefano Veneruso, sceneggiatore, regista e produttore, per essere stato nostro ospite quest'oggi. Grazie, grazie mille. Grazie a voi davvero tantissimo, grazie. Buona giornata. Grazie, andiamo in pubblicità. Grazie a tutti.